Cosa è un'emorragia sottocongiuntivale? Un'emorragia subcongiuntivale è un'emorragia al di sotto della congiuntiva dell'occhio, la delicata membrana che copre la sclera o il bianco dell'occhio. Quando questa condizione si sviluppa, il bianco dell'occhio diventa rosso vivo, perché il sangue è intrappolato tra la congiuntiva e la sclera. Questa condizione può sembrare abbastanza allarmante, ma di solito è perfettamente innocua e si risolverà da sola entro due settimane. I sintomi di sono abbastanza ovvi, ma poiché la condizione non causa alcun dolore o disagio, la condizione potrebbe essere notata da un amico o da un collega prima che il paziente se ne accorga. Tipicamente un'emorragia subcongiuntivale assume la forma di una macchia rossa brillante nel bianco dell'occhio che può diffondersi per coprire molto più del bianco, a seconda della gravità dell'emorragia. Per i primi giorni, l'emorragia può apparire estremamente brutta. Tuttavia, come un livido, inizierà a svanire, diventando bluastro, verde e giallastro prima di scomparire del tutto. Ci sono un certo numero di cause per le emorragie subcongiuntivali. Il trauma per gli occhi è una delle cause principali, insieme al sollevamento di carichi pesanti, stress, sforzo fisico, vomito intenso e alcuni interventi chirurgici. Di solito, la condizione è un problema isolato, ma può essere il sintomo di un problema di fondo. Per questo motivo, alcune persone amano andare dal medico per confermare che hanno davvero un'emorragia subcongiuntivale. Un medico dovrebbe sempre essere consultato se l'emorragia è accompagnata da disturbi della vista, dolore agli occhi, nausea o mal di testa. Il miglior trattamento non è un trattamento. L'emorragia si è in genere interrotta dal momento in cui viene identificata e alla fine il sangue uscirà dal bulbo oculare da solo. È una buona idea evitare di toccare l'area intorno all'occhio o di comprimere l'occhio durante le fasi di guarigione. Se l'occhio diventa prurito, come talvolta accade, si possono usare collire le netivi per alleviare il prurito. Gli occhiali scuri possono essere indossati da pazienti che sono stanchi di ricevere commenti sui loro occhi arrossati. Un'emorragia subcongiuntivale di tanto in tanto non è nulla di cui preoccuparsi, ma se la condizione si ripete spesso, può indicare che una condizione medica di base deve essere affrontata. Le persone che soffrono frequentemente di emorragia subcongiuntivale possono voler parlare con un medico. A volte la condizione può essere affrontata con cambiamenti nella dieta, l'interruzione di alcuni farmaci o integratori, o una pausa dall'esercizio fisico pesante.